Allora, benvenuti. L'obiettivo di questa parte di lezione è quella di vedere assieme, in maniera un po' più approfondita, alcuni aspetti aggiuntivi del stream API, ovvero delle funzioni che permettono di gestire gli stream di dati. La volta scorsa avevamo concluso menzionando alcuni collettori, in particolare avevamo visto che all'interno della classe Collectors ci sono diversi collettori, alcuni un po' più semplici, tipo ad esempio il tool list che abbiamo visto qui, che raccoglie tutti gli elementi che arrivano dallo stream e li memorizza all'interno di una lista, e quelli un po' più complessi, come il grouping by, che sostanzialmente vanno a prendere gli elementi e li classificano in base a una chiave, definita tramite una lambda in questo caso, ma come una funzione che si chiama classificatore, che va a classificare gli elementi e a inserirli all'interno di una mappa. non una mappa normale, ma una mappa di chiave lista, in modo che tutti gli elementi classificati secondo una certa chiave, finiscono nella lista associata a quella chiave. avevamo visto che l'ultimo esempio della volta scorsa andava a prendere il nostro stream di parole, eliminava i duplicati, faceva un'operazione di mapping sulla versione maiuscola e poi faceva un collect grouping by andando a raggruppare per lunghezza della stringa, quindi della parola stessa. Il risultato era sostanzialmente una mappa dove la chiave è un intero e il valore è una lista di string. Quindi le chiavi saranno tutte le possibili lunghezze identificate da questa mappa e la lista conterrà tutte le parole che hanno quella lunghezza. A questo punto vi creo una nuova classe così evitiamo di andare in questa e torniamo quindi esempi collettori così isoliamo la parte nuova da quella vecchia. In questa nuova classe andiamo a copiare questa prima parte che sostanzialmente prende le parole della canzone e l'ultima parte da cui sostanzialmente andiamo a riprendere la lezione di oggi. Quindi se vado ad eseguire questo codice il risultato vedete è una mappa che viene stampata qui in cui abbiamo per ogni chiave ad esempio la chiave 1 quindi le parole con lunghezza 1 troviamo le due parole che sono E e L per le parole con lunghezza 2 abbiamo tre parole un il si e al poi abbiamo le parole con lunghezza 3 e 4 eccetera ok come funziona l'operazione di grouping by quindi come funziona il collettore grouping by allora sostanzialmente ve lo mostro con le slide quando abbiamo un collettore di raggruppamento noi partiamo come al solito da uno stream e quindi abbiamo delle in questo caso delle parole e andiamo a utilizzare quella funzione quell'oggetto function che noi abbiamo scritto come una lambda per andare a classificare il nostro stream e sostanzialmente andare a suddividere il nostro stream in vari stream paralleli quindi è come se il nostro stream venisse suddiviso in tanti stream paralleli per cui il classificatore associa 1 cioè la lunghezza 1 alla prima parola A e quindi va a accodare la parola A a uno stream che corrisponde a la lunghezza 1 secondo elemento il classificatore assegna 2 come etichetta dello stream e quindi va a creare un nuovo stream con la parola B successivamente avremo un altro stream un altro elemento ancora elemento C che viene classificato in 1 e quindi aggiungiamo C a quello stream poi abbiamo la parola D che ha lunghezza 2 quindi verrà aggiunta allo stream con lunghezza 2 e via di questo passo quindi l'idea è che il grouping by suddivide gli stream dopo aver suddiviso gli stream che cosa fa? li va a elaborare separatamente quindi andrà a prendere sostanzialmente una nuova andrà a costruire sostanzialmente una mappa dove a ogni stream separato corrisponde una entry distinta quindi andremo a creare una mappa con entry distinta che cosa mettiamo dentro questa mappa? sostanzialmente andremo ad aggiungere quello che viene definito un collettore downstream quindi l'idea è andiamo a suddividere in tanti stream paralleli ogni stream verrà accumulato in qualche modo se non diciamo nulla automaticamente l'accumulazione è all'interno di una lista è la struttura dati più più semplice più consona a memorizzare i dati che arrivano da uno stream perché mantiene l'ordine non elimina i duplicati mette tutti gli elementi quindi se non voglio perdere informazioni vado a mettere il risultato di uno stream all'interno di una lista quindi automaticamente questo elemento collettore downstream va ad accumulare i vari stream paralleli ciascuno etichettato in base al classificatore al valore restituito al classificatore in una lista una volta che abbiamo per ciascun uno stream parallelo l'oggetto finale quindi l'oggetto che raccoglie tutti gli elementi allora andiamo ad aggiungere alla nostra mappa che è il risultato finale della grouping by sostanzialmente la chiave che corrisponde all'etichetta dello stream e il valore che corrisponde al risultato dell'accumulazione finale per cui andremo a creare una mappa in cui abbiamo la chiave 1 e il risultato dell'accumulazione dell'etichetta 1 2 chiave e il risultato dell'accumulazione degli elementi con etichetta 2 questo è quello che viene fatto dalla nostra la nostra funzione di accumulazione grouping by quindi torniamo un attimo al codice e vediamo bene di capire come avviene tutto questo abbiamo le nostre parole le mappiamo in maiuscolo ma non importa a questo punto la grouping by che cosa fa? fa una classificazione in base alla lunghezza quindi come abbiamo visto prima per ogni possibile valore di lunghezza crea un nuovo stream che ha quella lunghezza e poi implicitamente va a raggruppare con un tool list tutti gli elementi di ciascuno di questi stream paralleli indipendenti quando ha finito di raggruppare tutti gli elementi che cosa fa? usa l'etichetta di ciascuno di questi stream che è l'etichetta che viene restituita da questa lambda e inserisce quell'etichetta come chiave e come valore il risultato dell'accumulazione ovviamente qui ci sono due elementi impliciti ok i dettagli impliciti sono innanzitutto la mappa che viene creata ok è un hash map una tree map per default visto che l'hash map è più efficiente viene creato un hash map ok ma noi volendo possiamo andare a modificare questo comportamento di default l'altra informazione implicita è l'accumulatore cosiddetto down stream che in questo caso è il tool list invece questo è un new hash map domanda con downstream si intende sottostream no con downstream si intende avalle quindi a valle di ciascuno dei sottostream abbiamo un in realtà un accumulatore diciamo così un collettore downstream quindi quel collettore lì il tool list viene applicato a ciascuno dei sottostream volendo io posso fare delle operazioni molto complicate con 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 il downstream iniziamo dal semplice e poi vediamo che possiamo andare a diciamo così complicare un po' per cui questo è come funziona il grouping by normalmente vi dicevo io posso andare a personalizzare ulteriormente il mio collettore grouping by andando a specificare i due elementi impliciti che vi citavo qua ovvero la mappa che viene creata e in particolare il collettore downstream per cui il grouping by può prendere una serie di parametri che sono il primo ovviamente quello che si chiama il classifier il classificatore ovvero quello che suddivide in tanti sottostream il secondo elemento è un supplier che crea la mappa in cui andiamo ad accumulare gli elementi quindi è un qualcosa che fa new ad esempio hash map e il terzo elemento è il collettore lo chiamo accumulatore perché tendenzialmente accumula ma non detto che accumuli esclusivamente ed è il collettore downstream che in questo caso è collectors punto to list hash map è da importare in questo file ovviamente non devo andare a specificare i parametri perché sono inferiti automaticamente dal sistema però qui hash map è integer virgola list di string ok e qui è un to list credo di poterlo scrivere qua di string questi tipi di nuovo io l'ho scritto in questo caso esplicitamente ma sono dedotti sostanzialmente dal tipo di elementi quindi questo è uno stream di string quindi andando a fare una grouping by è ovvio che gli elementi saranno string e questo qui essendo un valore che restituisce un int restituisce un int che viene convertito dovendo utilizzare dei tipi wrapper come chiavi in un integer se qui invece di mettere un int avessi messo un long un character ovviamente la chiave del nostro collettore sarebbe stata diversa quindi equivale a quello che abbiamo scritto qui sotto ok dove l'hashmap è il valore di default quindi sostanzialmente questo è quello che si chiama il supplier e questo abbiamo detto si chiama il downstream andiamo giusto per verificare a ristampare questa stessa struttura dati creata in questo modo vedete che è esattamente identica la stessa elemento per elemento quindi sostanzialmente l'obiettivo è l'obiettivo del grouping by è andare a costruire una mappa che ha come chiave l'elemento che ci restituisce il classificatore ok che è il primo parametro e come valore una lista di tutti gli elementi dello stream che hanno quella chiave o meglio a cui la lambda che abbiamo qua assegna quella chiave vediamo un altro esempio molto molto semplice immaginiamo di voler andare a classificare gli elementi e raggrupparli scusate poi in realtà è la stessa cosa non tramite la lunghezza della parola ma diciamo tramite l'iniziale quindi la prima il primo carattere ok quindi andiamo a definire una mappa che ha che ha come chiave un carattere e come valore la lista delle stringhe ovvero parole che hanno quell'iniziale ok e questa la chiamiamo per iniziale uguale a il solito nostro stream parole distinct ok metto il distinct così abbiamo sostanzialmente un po' meno parole da stampare altrimenti viene una cosa lunghissima il distinct lasciamo perdere l'upper case facciamo un collect ci va bene l'operazione di default cioè va bene che utilizziamo un hash map e va bene che utilizziamo un collettore a valle che è il tooliste domanda il distinct lo dobbiamo mettere ogni volta che usiamo uno stream no come vi dicevo ho messo il distinct perché così evitiamo di avere nella stampa tantissime parole cioè avere tutte le parole ripetute ok però in questo caso voglio andare a raccontare quante parole distinte hanno una certa iniziale cioè quali parole distinte hanno una certa iniziale quindi se no andrei a vedere quante volte compare una parola con una certa iniziale che è leggermente diverso però è semplicemente cioè il mio obiettivo qui è semplicemente avere un numero più ridotto di parole in modo che la stampa non sia uno sbordolamento lunghissimo quindi collect faccio un operazione che è questa di andare a fare un import static java udd stream collectors punto asterisco ok in questo modo io evito di dover ripetere collectors punto ogni volta ok per semplicità non è strettamente necessario quindi qui posso invece di scrivere collectors punto grouping by posso scrivere direttamente grouping by abbiamo detto che voglio andare a classificare in base alla lettera iniziale e quindi posso prendere la mia parola e andare a fare un p punto char at zero e prendo il carattere in posizione zero della mia parola a questo punto cosa vuol dire vuol dire che il nostro stream di parole verrà suddiviso in tanti sottostream uno per ogni possibile lettera iniziale a questo punto per ciascuna lettera iniziale avremo uno stream separato non avendo specificato nulla qui ciascuno di questi stream verrà raccolto verrà passato a un collettore a valle che è il to list ok questo è il default e il risultato verrà messo dentro un hash map che avrà come chiave il carattere della lettera iniziale e come valore la lista di tutte le parole che hanno quelle iniziali a questo punto se io stampo questo risultato non è per lunghezza ma è per iniziale in questo caso ah scusate manca una tonda a questo punto se eseguo che cosa ottengo abbiamo a al e acqua a alla angelo b bastone brucio eccetera allora vedete che qui ho sia a che a quindi quello che potrei fare è qui andare a ad esempio fare un character punto to uppercase di i punto charret zero ok sostanzialmente vado a classificare in base alla lettera iniziale ma maiuscola in modo che che inizi con la minuscola che inizi con la maiuscola vengono tutte messe assieme ok in questo caso vedete che a iniziale ma a mi raggruppa tutte le parole che hanno la stessa iniziale attenzione che questo è abbastanza è diverso da andare a mettere in maiuscolo come avevamo fatto qua sopra tutte le parole perché in questo caso io vado semplicemente a prendere la prima lettera la metto in maiuscolo e l'utilizzo come come chiave per andare a suddividere nel caso precedente io metto in maiuscolo tutte le parole e dopodiché vado a sostanzialmente trattare le parole che ormai sono trasformate in maiuscolo domanda posso mettere più di un collect con condizioni diverse no il collect sostanzialmente è unico quello che posso fare è andare a mettere un collect a valle ok quindi andare a specificare un downstream che è diverso per cui per iniziale mi dà la lista delle parole che è una certa iniziale potrei andare a fare un ve lo riscrivo qui sotto stream of parole distinct grouping by ok vado a mettere questo come sostanzialmente classificatore e poi vado ad aggiungere sì vado ad aggiungere un supplier ad esempio hash map due punti due punti new ok ho messo un metodo reference invece di mettere la lambda come ho fatto nel caso di sopra e poi vado a mettere un collettore a valle invece di utilizzare il tool list potrei mettere ad esempio counting il risultato a questo punto che cos'è è una mappa che avrà come chiave un carattere perché questo classificatore ci restituisce un carattere fatemelo mettere sotto a capo così forse è più quindi il classifier mi restituisce un carattere e quindi la chiave sarà un carattere il valore che cos'è e beh è quello che ci restituisce il nostro counting counting ci restituisce sostanzialmente un long quindi il risultato di questo grouping by di questo collect grouping by sarà una mappa che avrà come chiave sempre il solito caratter come nell'esempio precedente perché sostanzialmente il classificatore è lo stesso e avrà come valore non più la lista che è quella prodotta dal collettore di default del tool list ma bensì un long conta per iniziale e quindi il caratter è determinato dal classificatore il valore è determinato dal collettore quindi dal collettore downstream metto il commento questo è il downstream o collettore avalle che mi restituisce un long quello che non posso fare è dire ho uno stream faccio una serie di passaggi ad esempio di map di distinct eccetera dopodiché vado ad accumulare in una mappa con un criterio in un'altra mappa con un altro ecco questo non lo posso fare devo ripetere la stessa espressione cambiando il grouping by in fondo ma questo perché sostanzialmente l'operazione di collect che cosa fa restituisce un valore e io non posso fare un collect e poi avalle un altro collect e mi restituisce un altro valore perché a quel punto non saprei bene come gestirli ok e quindi a questo punto se vogliamo andare a stampare anche quest'altro giusto per verificare che funzioni come ce lo immaginiamo conta per iniziale vedete che abbiamo A, B, C, D, F, G abbiamo tutte le lettere con le relative frequenze ok visto che ci siamo proviamo a ragionare su un altro aspetto se volessimo andare a stampare o meglio a ottenere diciamo che l'obiettivo è ottenere una mappa con diciamo che associa una frequenza di iniziale alla lista di iniziali che hanno scusate quella frequenza sostanzialmente vorrei avere una mappa che è un po' il contrario di quest'ultima che abbiamo generato ok ve la riesego e stampo per cui ad esempio vedete che B, C e D hanno frequenza 3 io vorrei avere una mappa che ha la chiave 3 e ha come valore la lista di questi tre caratteri più eventuali altri ad esempio P e T che hanno anche essi lunghezza 3 quindi sono ci sono tre parole che hanno iniziale B C D P P e T ok come faccio non è banale ok non posso fare un grouping by perché in realtà ho bisogno di un collettore che mi faccia il conteggio ok non posso fare prima il conteggio perché altrimenti non ho più le parole quello che posso fare è andare a prendere questo risultato e andare a usare questo come sorgente di uno stream quindi quello che posso fare è prendere conta per iniziale punto entry set punto stream quindi vado a prendere lo stream di quei valori che abbiamo visto prima a questo punto faccio un'operazione di collect molto semplice punto collect grouping by sostanzialmente abbiamo delle coppie chiave valore dove la chiave è il conteggio scusate dove la chiave è la lettera iniziale e il valore è il conteggio io vorrei andare a raggruppare per valore e andare a elencare tutte le chiavi ok quindi girare al contrario la mia la mia mappa in modo che faccia corrispondere ai valori le frequenze le corrispondenti chiavi ok a questo punto non avrò più l'unicità e quindi ovviamente il mio grouping by viene in soccorso perché invece di darci per una frequenza un'unica parola un'unica lettera di iniziale ci darà una lista di iniziali ok quindi faccio un grouping by e lo faccio in base a che cosa alla a quello che è il valore quindi grouping by ho il mio entry la mia entry e faccio e punto e punto get value il risultato che cos'è il risultato sarà una mappa che va avrà come chiave il valore ok il value è un long quindi abbiamo una mappa che ha come chiave un long e come valore una lista di che cosa? beh gli elementi che stanno nello stream ovvero gli entry della nostra mappa di partenza quindi entry qui abbiamo una chiave e la chiave è carter e il valore è un long guardate questo è map punto entry perché è una classe annidata dentro map domanda cosa serve entry set mi restituisce l'elenco delle entry di una mappa che cos'è una entry e la coppia chiave valore in questo caso l'entry set ve lo faccio un passo la domanda è vorrei avere una lista di carter sì quello è l'obiettivo però se mi fermo qua ho una lista di entry perché gli elementi del mio stream sono delle entry cos'è l'entry set è un set di oggetti di tipo map punto entry entry è una classe definita dentro map con questi due tipi chiave e valore quindi questo è l'entry set che è uguale a abbiamo detto conta iniziale entry set set ovviamente da importare perché non l'abbiamo ancora usato in nessun posto e vi faccio una stampa di questo così vediamo cos'è contenuto usate l'entry set vedete questo quindi a uguale a 4 b uguale a 3 sostanzialmente è la stessa cosa che c'è nella mappa solo che invece di essere una mappa quindi permettermi l'accesso mi dà un set di queste coppie di queste coppie allora c'è un codice in chat che è un po' contorto allora non riesco a rispondere adesso perché mi porta via troppo tempo ci ritorno poi dopo sostanzialmente ricordatevi che il classificatore deve prendere un elemento per volta quindi qui nel mio classificatore prende un elemento per volta del mio stream di parole quindi per ogni elemento lo mette da una parte o dall'altra domanda una modifica alla mappa comporta la modifica del corrispettivo entry set anche se definito precedentemente, sì, sono collegati infatti io non ho un hash set o un tree set ho un entry che è sostanzialmente legato alla mia mappa e se modifico un entry che sta nell'entry set vado anche a influenzare la mappa se ricordo bene l'entry set è una struttura a sola lettura quindi non posso aggiungere un elemento all'entry set perché sennò andrei a influenzare la mappa però sono ovviamente collegate quindi l'entry set è sostanzialmente la mappa però cioè gli elementi della mappa che sono chiamate delle entry per l'appunto e sono rappresentate da questa classe che si chiama entry ed è definita dentro map che sono i singoli elementi entry in realtà non è una classe ma è un'interfaccia per cui le entry di un tree map e le entry di un hash map saranno leggermente diverse ma diciamo che noi li vediamo attraverso questa interfaccia ok a questo punto abbiamo detto che il grouping by che cosa fa? prende gli elementi del nostro stream che in questo caso sono degli entry quindi queste coppie chiave valore li suddivide in sottostream e ciascuno sottostream lo va a mettere dentro una lista ok? per cui questa cosa qui la possiamo anche riscrivere la possiamo anche riscrivere in questo modo scusate metto qua un commento così più semplice grouping by il classificatore non possiamo mai mettere due parametri dobbiamo metterne tre per forza quindi dobbiamo mettere un hash map due punti due punti new e poi il downstream che è un tool list il nostro obiettivo sarebbe idealmente non avere qualcosa che ci fa corrispondere un long a una lista di entry ma vorremmo avere un long una mappa che fa corrispondere un long a una lista di caratteri quindi vorremmo dopo aver suddiviso il nostro stream in tanti sottostream scusate dopo aver suddiviso il nostro stream principale di entry in tanti sottostream caratterizzati da quella che è la nostra chiave ovvero il conteggio vorremmo poter prendere esclusivamente il valore ok come facciamo? beh lo possiamo fare attraverso quelli che sono ve li faccio vedere nella slide dei collettori che in realtà non sono dei propri collettori ma sono degli collettori composti ovvero c'è ci sono questi due collettori che si chiamano collecting and then e mapping che sostanzialmente funzionano in questo modo hanno tutte e due due parametri una funzione di mapping ovviamente e un collettore il collecting and then che cosa fa? prima fa l'operazione di collect il grouping by il tool list quello che è e poi chiama la funzione di mapping il mapper per andare a trasformare il risultato in qualcosa di diverso la mapping fa sostanzialmente il contrario quindi prende gli elementi dello stream o del sottostream se stiamo parlando di qualcosa che sta a valle di un grouping by li trasforma tramite il mapper e poi li passa al collettore che fa la sua operazione di raccolta in questo caso specifico a noi farebbe molto comodo avere il secondo al posto di questo tool list quindi mi piacerebbe avere qui un qualcosa che fa corrispondere a un carter e non ho un entry set scusate ho un entry qui ovviamente non posso avere un tool list ma ho bisogno di un mapping che prima prenda l'entry e vado a fare un e punto get key e poi faccio un tool list scusate no la iniziali per frequenza scusate sto usando un nome che c'era già prima e quindi mi davo un errore quindi che cosa succede rispetto a quello precedente invece di andare a mettere nella lista le mie entry che sono quelle che trovo nell'entry set vado a prendere quelle entry faccio un'operazione di mapping ovvero prendo la entry vado a prendere la chiave ricordatevi che la chiave era la mappa precedente aveva come chiave l'iniziale quindi un carattere e e poi chiamo il collettore tool list come prima che però a questo punto non opera sulla entry ma opera sul risultato di questa operazione di mappatura che va a prendere il carattere e lo estrae dalla nostra entry quindi ho uno stream con questa coppia lettera frequenza è quello che abbiamo costruito prima con il per iniziale lettera frequenza faccio faccio un grouping by e vado a suddividere queste coppie lettera frequenza in base al valore ovvero alla frequenza quindi ho tanti sotto stream uno per tutti i possibili valori di frequenza e ciascuno di questi sottostream viene passato a questo collettore composto questo collettore composto che cosa fa prende le entry lettera iniziale e conteggio tiene soltanto la lettera iniziale la chiave in questo caso e lo passa a un ulteriore collettore che è il tool list risultato questa mappa che come abbiamo visto è una mappa long di frequenza lista di caratteri e se andiamo a stampare ci restituisce sostanzialmente questo quindi le parole che hanno iniziale gl e v sono uno le parole che hanno iniziale le parole che hanno come iniziale e, f, i e u sono due tre è la frequenza delle parole che hanno iniziale b, c, d, p e t infine 6 è la frequenza delle parole che hanno iniziale m e s ok è un po' contorto ma domanda qual è l'obiettivo per utilizzare questi collettori è sostanzialmente un modo di andare a fare delle elaborazioni più complesse scrivendo del codice tutto sommato compatto immaginate di scrivere esattamente questo codice che vi produce questa mappa ma usando non usando gli stream ma usando semplicemente dei cicli risulta molto complicato quindi sì andiamo a usare questi per andare a costruire delle mappe o altre strutture dati in maniera insomma complessa andiamo a vedere un altro esempio ok andiamo a contare ad esempio le frequenze delle singole parole quindi stavolta non ci mettiamo il il distinct quindi frequenza singole parole ovvero vogliamo andare a fare una mappa che associa a una stringa un long e quindi partiamo dal solito stream di parole frequenza parole uguale partiamo dal nostro stream di parole e andiamo a fare un collect grouping by il grouping by avrà come classificatore un qualcosa che fa p freccia p ok qual è la chiave è la parola stessa ok abbiamo un hash map new e abbiamo un counting e questo lo chiamiamo frequenza parole e lo stampiamo ok quindi il risultato vedete che e ha dieci occorrenze angelo due sul due topo dieci gatto dieci uccise tre toro quattro eccetera ovviamente qui l'ordine è casuale cioè è casuale è corrispondente alla all'ash code di queste varie stringhe quindi l'ash code di e precede l'ash code di angelo eccetera eccetera se noi volessimo qui avere le parole in ordine alfabetico con le relative frequenze ecco dobbiamo andare a cambiare la mappa in cui andare a mettere questo risultato ok quindi frequenza parole ordinate qui non faremo più un hash map new ma faremo un tree map che ovviamente è da importare e quindi in questo caso il risultato è esattamente quello di prima solo che le chiavi sono ordinate quindi questa cosa qua ci permette di andare a calcolare per ogni parola la sua frequenza ok se ricordate l'avevamo fatto da qualche parte ecco qua con questo con questo codice con gli usando semplicemente le le nostre collezioni e quindi sostanzialmente avevamo il nostro compute avevamo preso la frequenza e avevamo messo la versione breve è questa qui sopra quella un po' più lunga è questa sotto quindi sostanzialmente è analogo ok torniamo qui no eccoci qua ho creato una nuova classe ma poi ho scritto tutto nella stessa va bene domanda se noi volessimo avere invece un ordinamento alfabetico inverso eccoci qua scusatemi se volessimo avere un ordinamento alfabetico inverso ovviamente dovremmo andare a modificare questa trimap quindi ordinate in questo caso all'inverso vuol dire che qui non posso andare a creare una mappa una trimap normale ma devo creare una trimap con un comparatore quindi non posso usare un un method reference perché il method reference non in questo caso non avrebbe bisogno di parametri quindi uso una lambda e vado a fare un new trimap e vado a mettere qui un compareto punto reverse order è un pochettino più complicato di prima nel senso che la lambda è un po' più verbosa rispetto al al method reference però sostanzialmente fa la stessa cosa crea una trimap con questo comparatore e il risultato è sostanzialmente quello in cui vado a ordinare in ordine inverso se volessimo andare a fare una mappa in cui abbiamo le parole ma questa volta la chiave è il numero di di occorrenze e il valore è la parola stessa è esattamente analogo a quello che abbiamo fatto prima con le iniziali quello che possiamo fare è andare a mettere andare a prendere le nostre parole ordinate non inversa entry set stream punto collect non close ma collect errore di compare che nobile risolve probabilmente lo devi importare devi importare devi importare compare java utile compare possiamo utilizzare la struttura di prima oppure possiamo utilizzare un nuovo collettore che si chiama to map che sostanzialmente ha una ha due parametri che sono il key mapper e il value mapper quindi dato un elemento c'è una prima funzione un primo oggetto function che ci dice dato l'elemento dello stream come calcolare la chiave e un altro che ci dice come calcolare il valore il problema è che in questo caso io ho tante allora il to map va bene se io ho una mappa con gli elementi unici in questo caso invece io voglio andare a mettere assieme tutte le parole che hanno la stessa frequenza quindi il to map va bene se io sono sicuro che ci siano elementi unici in questo caso non ci sono quindi sostanzialmente vado a utilizzare una struttura analoga a quella di prima quindi vado a fare un grouping by il mapper è esattamente quello di prima quindi ho l'entriset e vado a fare un e punto get value ok questa è la frequenza vado a creare la mia mappa quindi hash map new e poi vado a prendere gli elementi del del mio entry set e li aggiungo all'interno di una lista non voglio mettere gli entry set interi ma voglio andare semplicemente a mettere le corrispondenti chiavi ovvero le parole quindi andrò a fare un mapping entry set scusate entry freccia e punto get key e poi to list questa cosa qua è ci dà come risultato una mappa di frequenza e lista di le chiavi string diciamo lista di parole quindi la mappa avrà come chiave un long e come valore un list di string parole per frequenza vedete che abbiamo uno e quindi sono signori in fine sul queste sono le parole che hanno frequenza uno poi abbiamo le parole che hanno frequenza due angelo morte della sul eccetera eccetera fino ultimo c'è una parola che ha frequenza 53 che è la parola che se io voglio avere la stessa cosa però a partire dalla parola che domanda quindi mapping automaticamente aggiunge la parola alla lista se c'è già o crea la lista attenzione no è list è il to list che crea una lista e poi aggiunge tutti gli elementi il mapping che cosa fa trasforma l'entry in una in una stringa perché va a prendere la chiave e passa quindi sostanzialmente trasforma uno stream di entry in uno stream di stringhe e lo stream di stringhe dal mapping viene passato al to list il to list l'abbiamo visto prima è quell'accumulatore quel collettore che prende tutti gli elementi dello stream e li aggiunge a una lista quindi il mapping semplicemente fa un pre-processing prima di passare gli elementi a list il pre-processing in questo caso è quello che fa un passa da un entry a una stringa e quindi il to list andrà a mettere andrà a creare una lista di stringhe domanda la chiave non è un unico elemento allora la chiave viene gestita qua la frequenza viene gestita qua quindi ho uno stream di a questo punto qui quindi all'inizio io ho uno stream di entry quindi copie parola frequenza questo è il punto di partenza che è quello che abbiamo calcolato con la con la l'espressione precedente il grouping by in base a questa a questo classifier cosa fa suddivide le coppie parola frequenza in tanti stream in base a che cosa alla frequenza che è il valore in questo caso quindi avremo tanti stream e in ogni stream ci sono tutte le parole che hanno la stessa frequenza tutte queste parole vengono poi passate a questo downstream che prende le entry che corrispondono alle parole che hanno la stessa frequenza e tira fuori la parola stessa che invece di usare la coppia tira fuori la parola con questo get key e dopodiché una volta tirato fuori la parola viene passato al to list che lo aggiunge una lista quindi tanti stream di entry che corrispondono a parole che hanno la stessa lunghezza le parole vengono aggiunte alla lista quindi ho tutte queste liste ciascuna che corrisponde a una lunghezza diversa e il grouping by alla fine le mette assieme in una mappa in cui la chiave è la la frequenza ho detto lunghezza e la frequenza e il valore è la lista delle parole che comparivano nelle entry che avevano quella frequenza domanda se avessimo come valore di una entry una collection come potremmo fare una cosa del genere allora sarebbe un pochettino più complicato dovremmo utilizzare probabilmente un flat map dipende esattamente cosa vogliamo fare ma adesso ci arriviamo ok voglio dedicare gli ultimi minuti a parlarvi del flat map che è una cosa un po' particolare ecco l'ultima modifica che volevo fare a questa espressione è andare a ordinare le parole non secondo la 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 ma semplicemente andando a fare una una tree map comparator punto reverse parole per frequenza decrescente e quindi l'ordinamento viene definito dalla mappa che in questo caso è una tree map con ordinamento decrescente ordinamento decrescente di che cosa delle frequenze che è la chiave il risultato per cui in questo caso che abbiamo come primo la parola con 53 la seconda le parole con 47 poi vedete abbiamo tre parole che hanno frequenza 21 eccetera velocemente due cose io ho parlato del mapping c'è anche il collecting and then quindi sostanzialmente io questa cosa qui la posso anche andare a calcolare prendendo questo invece di fare grouping by vado a fare collecting and then il collecting and then prevede un un collettore che è il grouping by e poi una funzione che prende il risultato del grouping by e lo trasforma e quindi abbiamo la nostra mappa e poi andiamo a fare sostanzialmente questo qui mi viene dato un errore m freccia scusate m punto entry set e devo ovviamente chiudere la parentesi del collecting del collecting and then credo ok quindi il primo pezzo è il grouping by di prima il secondo pezzo questo è quello che parte dalla mappa e va a tirare fuori a scorrere gli elementi domanda è possibile filtrare in fase di downstream direi no c'è 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 il mapping che quindi trasforma o il collecting che quindi trasforma il risultato non c'è un filtering almeno se non l'hanno aggiunto nelle ultime versioni non c'è un collettore che scarta qualcosa volendo possiamo andare a costruire noi un collettore che che scarta però dobbiamo andare noi a scrivere la funzione di accumulazione quindi è possibile farlo ma non con con questi collettori o composizioni di collettori predefiniti quindi questo è sostanzialmente equivalente alla coppia di quelle due composizioni e l'abbiamo composto sostanzialmente con questo collecting and then ultimo ultima nota quindi nell'ultimo m sta per mappa si m sta per sostanzialmente questa mappa frequenza parole ordinate se volete m chiamola così frequenza parole ordinate tanto per usare un nome che sia analogo a quello di prima ok è sostanzialmente quella là non è quella là ma è l'equivalente di quella là di quella mappa di sopra velocemente una piccola osservazione se vi ricordate noi abbiamo costruito l'array parole con quindi abbiamo costruito l'array parole in questo modo e poi dalle parole abbiamo costruito il nostro il nostro stream potremmo fare in un altro modo cioè prendere direttamente il testo e farlo e andarlo spezzettarlo in parole direttamente con uno stream tendenzialmente sì ad esempio io potrei andare a fare uno stream of text questo che cos'è è uno stream di string perché text è string con un solo elemento ok è il testo generale per trasformare gli elementi di uno stream abbiamo visto che possiamo utilizzare l'operazione di map quindi l'operazione di map può prendere il testo e trasformarlo in testo punto e vi vado sostanzialmente a mettere lo split che abbiamo messo per le stringhe cos'è questa cosa e questo è uno stream di string array ok ok e l'operazione di map che cosa fa prende un elemento e tira fuori un elemento quindi cambia eventualmente il tipo quindi il risultato è che qui abbiamo uno stream i cui elementi sono degli array di stringhe però di nuovo abbiamo un solo elemento quello che vorrei fare è dire no attenzione io tutti i componenti di questo unico elemento vorrei che fossero espansi in elementi individuali in modo da avere uno stream i cui singoli elementi sono delle stringhe che corrispondono alle parole che sono gli elementi dell'array che ho prodotto questo lo posso fare con flat map che prende il nostro array e trasforma l'array in uno stream punto stream di a a questo punto abbiamo finalmente uno stream di stringhe con un elemento per parola punto collect to list quindi abbiamo una lista di stringhe e questa è la lista delle parole quindi il flat map che cosa fa prende un elemento composto lo espande quindi deve avere una questa funzione di espansione che prende l'elemento e genera uno stream e nel caso ci siano tanti elementi che cosa fa concatena gli stream che corrispondono a ciascuno di questi elementi quindi mette prende un elemento genera uno stream e in coda quello stream andrà a mettere lo stream dell'elemento successivo e via di questo passo in questo caso abbiamo un unico elemento di partenza quindi ci sarà un unico stream ma in più in generale flat map cosa fa prende un elemento genera lo stream e poi concatena con lo stream generato dall'elemento successivo il risultato sostanzialmente è quello di andare a mettere tutte le parole in una lista come avevamo visto potevamo fare prendendo l'array stream dello split direi che con questo abbiamo visto abbastanza esempi adesso vi metto a disposizione questo codice provate a riguardarlo provate a a studiare le varianti se avete domande ovviamente potete utilizzare Slack e il prossimo laboratorio di mercoledì dedicherà tutte le tre ore a un esercizio un po' elaborato per sull'uso degli stream per giovedì metterò una lezione asincrona un po' più semplice su prossimi argomenti di Java che però sono meno meno importanti quindi sarà sull' input output una cosa un argomento relativamente semplice quindi vedremo come funziona la lettura e la scrittura ok a questo punto fermo la registrazione a questo punto